Ognuno dei sette Arcangeli che dirigono i cori angelici dei sette raggi ha un complemento divino conosciuto come Arcangelina. Il complemento divino dell'Arcangelo Michele è l'Arcangelina Fede, personificazione della fede nell'onnipotenza di Dio. Infatti l'Arcangelo Michele a sua volta è la personificazione della protezione della fede nell'onnipotenza di Dio, cioè il protettore della fede, il protettore dell'Arcangelina Fede. La Signora Fede è conosciuta dentro il Cattolicessimo come una delle tre virtù teologali, insieme alla Signora Speranza, complemento divino dell'Arcangelo Gabriele, e alla Signora Carità, complemento divino dell'Arcangelo Chamuel. Ogni volta che una persona prova paura o timore può invocare l'Arcangelina Fede e affermare «Io sono la fede nell'onnipotenza di Dio, Dio è con me e mi protegge». Il ritiro eterico o campo di forza della Signora Fede sul pianeta Terra si trova nell'ambito eterico sopra il Vaticano. Questo campo di forza viene conosciuto come il Tempio della Fede e la Fiducia. Non per caso, ma per causalità, in Vaticano troviamo diverse raffigurazioni della Signora Fede, rappresentata da una donna vestita di bianco che tiene in una mano il calice e l'ostia, mentre nell'altra brandisce una croce. Non è neanche una casualità che l'Arcangelo Michele sia il patrono dello Stato Vaticano. Nei prossimi video continueremo a parlare sul Regno Angelico. Se volete maggiori informazioni potete ottenerle nel libro Angeli e nel libro Arcangelo Michele di Ruben Cedegno. Alla prossima!